Un mistero che fa pubblicità di sé non è cristiano. Papa Francesco nell'Omelia ha elogiato il silenzio che è la vera forza dello spirito. Signore, sempre ha avuto cura del mistero e ha coperto il mistero. Signore, non ha fatto pubblicità del mistero. Un mistero che fa pubblicità di sé non è cristiano, non è un mistero Dio, è una finta di mistero. E questo che è accaduto alla Madonna qui, riceve il suo figlio, il mistero della sua maternità virginale, è coperto. E' coperto tutta la vita. E lei sapeva questo. Quest'ombra di Dio ha in noi, nella nostra vita, anche l'aiuto di coprire il nostro mistero. Il nostro mistero dell'incontro col Signore, il nostro mistero del cammino della vita col Signore. Grazie. 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 Grazie.